Alla luce degli ultimi fatti di cronaca nazionale che vedono ancora una volta le donne vittime di violenza, Massimo Pignoli, capo gruppo in consiglio comunale a Pescara, ha tenuto una conferenza per illustrare l'iniziativa messa in campo dall'agenzia di sicurezza provata S-Security di Pescara, che mette a disposizione il proprio personale per accompagnare a titolo gratuito le donne e le ragazze agli incontri di chiarimento con marito o fidanzato o anche padre. Un modo per proteggerle dall'incontro, tanto da non farlo essere l'ultimo come è stato per le 150 donne che dall'inizio dell'anno hanno perso la vita. Noi offriamo un servizio di accompagno, quindi ci mettiamo a disposizione per quelle donne che ho fidanzate, insomma, che si sentono non sicure, non so, nell'andare da un legale, da un qualsiasi posto. Quindi ci possono contattare o tramite la pagina internet o attraverso anche Facebook e ci mettiamo a disposizione, logicamente, lì dove c'è quella necessità. Noi cerchiamo di fare un lavoro di prevenzione, al di là di questo servizio. In tutti i servizi la prevenzione oggi in questo settore è fondamentale, quindi con la formazione personale, con il saper lavorare, cerchiamo di svolgere meglio il nostro servizio. È un servizio totalmente gratuito, quindi le donne, le ragazze, qualsiasi persona che si dovesse sentire in un momento di difficoltà, non parliamo di denunce perché ovviamente lì ci andremo a sostituire a qualcosa di più importante e non è questo che devono fare loro, ma ovviamente è un fatto di prevenzione, possono ovviamente scrivere all'email all'azienda S-Security dove è stato dato tutti i email e quant'altro e loro interverranno gratuitamente per evitare il cosiddetto ultimo incontro. Certo, Pescara anche in questo caso si dimostra un'isola felice, però prevenire è sempre meglio che curare, quindi ci è venuta in mente questa cosa che ripeto è unica in Italia.